Una delle criticità italiane, dal punto di vista sociale soprattutto, è la presenza dell'Inter. Bentrovati cari amici, bentrovati. Oggi approfondiamo un argomento molto delicato quantunque impopolare sicuramente, ma di cui nessuno ha il coraggio di parlare, anche se sono tantissimi che mi sollecitano proprio su questo argomento e tantissimi la pensano come a me. L'Inter è diventato un pericolo sociale, l'Inter oggi è una piaga sociale, sociale. Quindi come vedete noi non parliamo di calcio, non è sport questo, perché se dovessimo parlare di calcio è l'ultima cosa che c'entra con l'Inter. L'Inter ormai non viene più associata al calcio, altrimenti non staremo qua a parlare. L'Inter invece è associata ad un malessere sociale, che diventa pericolosità sociale. Perché l'Inter rappresenta una icona di illegalità ed illecità. Un po' come la mafia, la camorra, l'andrangheta, la sacra corona unita, i centri sociali, gli estremisti di destra. C'è anche l'Inter. È una piaga sociale. Non è più una squadra di calcio, non lo può essere, non ha le condizioni per essere una squadra di calcio, non può essere iscritta al campionato. È chiaro, è evidente. E questo la dice lunga su come questo malessere che c'è in Italia condiziona, giocoforza, uno dei maggiori introiti nazionali. Un'azienda che è tra le prime sei in Italia, cioè il calcio, condizionata appunto dalla presenza. Come gli appalti per la malavita, la mafia, la camorra, l'andrangheta e via dicendo. Come l'ordine pubblico, ex brigade rosse, estremisti di destra, centri sociali, non global e via dicendo. Oggi l'Inter costituisce un'associazione che genera confusione e pericolo. Ma lo dico apertamente. Innanzitutto, come per, diciamo, attenzione io non sto dicendo che sono mafiosi o camorristi, io sto dicendo che per quanto riguarda l'Italia la presenza dell'Inter è una presenza guastante, è un fatto sociale. Allora, se si parla di Inter si parla di mala giustizia, sia per quanto riguarda il calcio, lo sport, sia per quanto riguarda la giustizia ordinaria. Una squadra con evidenti e chiari, illeciti, reati, non punita. Per cui è una icona della mala giustizia. Pericolosità sociale. Basta vedere il fatto quotidiano cosa dice, cosa parla quando afferma della curva nord dell'Inter. Non lo dico io. Cioè il fatto quotidiano di Ziliani e di e dello pseudo juventino travaglio. Andate a vedere cosa si dice della curva nord. È una situazione sociale. Perché sui social e non solo. Si trova di tutto e di più. Quando si è riconducibili all'Inter c'è violenza, minacce, fascismo ed è la cosa più che mi fa schifo. C'è arroganza, bugie, fake news. E oggi sapete i social rappresentano una fetta molto consistente della vita sociale. Ecco perché si chiamano social. Il tutto poi scaturisce, come ben noto, nell'agguato a 52 tifosi della Juventus, nel post partita dell'ultima gara del Meazza, ci sono delle inchieste aperte, chiarissime, evidenti. Perché tutto poi sfocia nella pericolosità del pseudo calcio. Oggi l'Inter non viene più associata al calcio. Come nei tempi di Fraizzoli, come nei tempi di Beccalossi, che era il mio giocatore preferito, come nei tempi di Pellegrini, signori, i tempi di Prisco, signori, eccezionali signori, ad avercene di quella gente. Il calcio, e non solo il calcio, avrebbe sicuramente rappresentato un esempio da prendere. E invece l'Inter oggi è una di quelle criticità nazionali per effetto di quanto avviene, di quanto accade. Se volete trovare violenza sui social, basta guardare, vedere, sentire, e leggere tutto ciò che viene dal mondo Inter. Quindi non è più associabile al calcio. Se si considera che un presidente federale, Gravina, conferma un Rocchi devastante nel suo aiuto costante all'Inter, per cui un imbroglio chiaro ed evidente, dimostrabilissimo. Basta prendere gli episodi. sarebbe facilmente riconducibile. Una Lega Calcio che fa spallucce rispetto al fallimento dell'Inter. Lega Calcio, quando dico Lega Calcio, mi riferisco alla Juventus, al Napoli, alla Roma, al Milan, a tutti quanti. Perché quella è la Lega. se si vogliono trovare sottofuggi, escamotaci, dove si va dall'Inter, qual è la stampa più violenta, più inquirente per le fake news, cioè quella che mette più fake news? La stampa dell'Inter. La stampa di chi segue l'Inter. Ecco perché l'Inter non è più riconducibile al calcio. Ma la parola Inter è riconducibile ad una piaga sociale. Fa parte delle negatività di questa razione. Non dello sport italiano. Della socializzazione, della società civile italiana. La politica. Vedete, una politica corrompibile che, per salvare questa Inter, ribalta i decreti dalla notte al giorno. Ridicolizza un ministro allo sport come Abodi. E mette in crisi un governo, perché eticamente, con la presenza di quel Presidente del Senato, un governo e un establishment di centrodestra, che io ho votato, è messo in crisi, chiaramente, dalla presenza dell'Inter, per la quale il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, fa carte false. E confermo, fa carte false. Facile vedere, no? Basta che si va nel Consiglio di amministrazione o nell'Assemblea dei soci. Si vede che cosa è stato firmato e si vede chi è presente. Cara Giorgia Meloni. Perché tu sarai anche Giorgia e brava. Ma noi non siamo gli scemi, che ti abbiamo votata perché eri bella donna e affascinante. Ti abbiamo votata perché vogliamo la regolarità, la giustizia. Ma mi sembra che invece, per quanto riguarda il calcio, non riuscite ad affrontare la piaga sociale Inter. Non la riuscite ad affrontare. Perché avete cercato, attraverso il Ministro Abbodi, di chiarire l'aspetto del controllo con l'autority per la quale si è dimessa la Covisoc? E mi sembra che Abbodi è stato, gli hanno messo la museruola. e Moulet ha ragione quando dice quelle cose. Quindi, come vedete, di calcio non c'è niente. L'Inter non è più associata al calcio. L'Inter è associata al malessere italico. Rappresenta il malessere italico. La giustizia, l'abbiamo già parlato. Di fronte all'illicità di questa squadra, tribunali, procure, si girano dall'altra parte. Un po' come è successo in tanti anni, quando la mafia non veniva combattuta, quando la camorra aveva nei suoi ranghi gente che poi si candidava e usciva parlamentare. La stessa cosa. Facendo le dovute proporzioni a livello, cioè quelli erano mafiosi, non mi sento di dire che l'Inter è mafiosa. Forse gli atteggiamenti dell'Inter sono mafiosi. Ma è un malessere uguale alla mafia, uguale alla camorra, uguale alle brigate rosse, uguale agli estremisti di destra ai centri sociali. È una criticità nazionale, iscritta, e non potrebbe esserlo, in una in una lega, in un campionato, senza averne diritto, non ha diritto ad essere iscritta. È un sopruso. E' la stessa cosa come quando i mafiosi non hanno diritto, perché i mafiosi, a prendere parte e a legare l'appalto. Però ne prendono parte e la vincono pure. È la stessa cosa che succede per l'Inter. Non può essere iscritta a un campionato, non ha le coperture finanziarie, non ha gli elementi giusti. Non ha le condizioni. Invece la fanno partecipare. Ecco perché è un problema sociale. Ed è un problema sociale perché la pericolosità dei propri sostenitori, perché sono pericolosi, perché ci sono l'80% dei tifosi dell'Inter, che sono persone serie nella vita, ma diventano dei vandali, dei violenti, quando poi parlano dell'Inter, non del calcio dell'Inter, attenzione alla differenza. 80%. Di qualsiasi estrazione sociale siano. Se parlano dell'Inter diventano violenti, diventano bugiardi, diventano arroganti, diventano fangaioli. Quindi non puoi parlarci, perché ti trovi di fronte a dei soggetti mostruosi, trasformati probabilmente dalle sconvitte perenni, dal dover sempre girare con un cappuccio per non farsi riconoscere, per averla fatta sempre franca e essere scappati alle punizioni. Come il ladro che non viene beccato, cioè mentre ruba, sanno tutti che ha rubato, ma non lo vanno a prendere. Cioè siamo in una condizione devastante per quanto riguarda la società civile. E questo purtroppo entra di diritto, sfonda il muro della serietà nella società civile italiana, perché il calcio fa parte della società civile italiana. E se si scrive l'Inter non calcistica, l'Inter come associazione, perché non è manco più una squadra, visto che non ha le condizioni per essere tale, si iscrive al campionato una squadra che non può essere scritto e che si porta dietro un bagaglio di zavorra. Ci si trova poi quotidianamente davanti a soggetti, che si tratta della magistratura, che si tratta del giornalismo, che si tratta dell'opinionismo, che si tratta dei social, di fronte a soggetti che possono fare di tutto e di più, di dire di tutto e di più, rimangono impuniti. Perché quando un delinquente rimane impunito, la sua delinquenza diventa boss. si diventa boss, si assume la superbia, l'arroganza. Ed è questo che succede. Succede questo. Ci si arroga il diritto addirittura che gente che spaccia la droga nella curva nord va sui social e dice no, devono chiudere i canali. Cioè qui siamo giunti ad un punto di non ritorno. Qui siamo giunti ad un punto di vergogna. È un vicolo cieco ormai. L'Inter, se la continuate a fare iscrivere in questo modo al campionato di Serie A, dove non potrebbe essere iscritta, create un precedente troppo grave. Continuate a danneggiare la società civile italiana. Perché il piccolo delinquentuccio nella società civile diventa un delinquente, poi diventa un mini boss, poi diventa un boss e può permettersi di fare tutto. Questa è la verità, purtroppo. Questa è la condizione, purtroppo, in cui si è arrivati con la presenza dell'Inter nella società civile italiana. Perché è una squadra che non ha i requisiti giusti e necessari per essere iscritta al campionato. Per cui non è una squadra che può entrare nel mondo del calcio. L'Inter è un'altra cosa. E' un'altra entità. Non so se ho reso l'idea. Spero di aver reso l'idea. Ma vi ho detto in maniera proprio che cos'è oggi l'Inter. L'Inter va tolta di mezzo. Va eliminata perché non ha le condizioni. Perché genera illegalità. Genera illecità. Vedete, nel calciomercato sono imbarazzanti. Nel pagamento dei giocatori con prestito diritto e obbligo di riscatto è imbarazzante. Sono imbarazzanti su tutto. Devono pagare i calciatori e sono imbarazzanti. Devono fare le leggi apposta. devono pulire i debiti di Moratti e Tronchetti Provera e mettono due zerbini come Toir e come Zhang. Ogni giorno ne esce uno e se ne scopre una. Davvero pensate che con tanta illegalità si può andare avanti. si rischia il tracollo sociale perché il calcio è un tracollo sociale ed è questa purtroppo la preoccupazione. Non è un fatto calcistico perché poi nel fatto calcistico si diventa arroganti ripeto si mette un Rocchi a fare il designatore il quale nasconde le verità e oggi ad esempio i Rati l'hanno dimissionato e non si sa il perché e i Rati sappiamo benissimo cosa ha combinato a favore dell'Inter e hanno paura che i Rati probabilmente lo ha intercettato e seguito perché se no non si spiega. Ho detto la parola di i Rati per fare uno dei tanti esempi. Mi fermo qui e spero che il concetto passi. Spero che questo concetto passi perché ci troviamo di fronte ad una piaga sociale ci troviamo di fronte ad un pericolo sociale con gente tifosa dell'Inter che siano magistrati che siano commercialisti che siano semplici operatori e rispettabili operatori ecologici che siano operatori commerciali che siano tentano di far male al prossimo pur di salvaguardare la vergogna della loro squadra. È gravissimo guardate è molto grave e questo è il messaggio che io oggi affido alla vostra attenzione. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche a mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.